Nikon Coolpix A è una fotocamera digitale compatta. Il design si presenta resistente e funzionale. Il corpo macchina è di alta qualità, robusto e tuttavia leggerissimo, con calotta superiore in lega di magnesio. La fotocamera è dotata del processore d'immagine X-Speed 2 che ottimizza tutte le tecnologie della fotocamera per prestazioni superiori ed un consumo energetico ridotto. L'obiettivo grandangolare fisso Nikon da 18,5 mm inoltre garantisce immagini ad alta definizione riducendo le aberrazioni ottiche. Il sensore d'immagine ad alta sensibilità consente di ottenere immagini reali caratterizzate da colori vivaci, disturbo limitato e gradazioni tonali uniformi. Coolpix A è accessoriata di ottimi sistemi per il miglioramento dell'immagine come il Picture Control che consente di regolare contrasto e impostazioni colorate più appropriate per la situazione ed un menu di ritocco che permette di migliorare le foto immediatamente grazie a un'ampia gamma di effetti filtro. L'anello adattatore consente di creare effetti diversi applicando filtri o paraluce all'obiettivo per ridurre la luce periferica. Coolpix A si mostra una scelta professionale per una fotocamera compatta da poter portare con te in ogni occasione.